shaman king shaman king il nuovo red no ragazzi no scusate vi ho fatto male gli orecchie lo capisco perfettamente sono stonatissimo ma volevo fare un intro che parlasse dei nostri amati anime se state guardando questo video allora ragazzi anche voi siete molto interessati agli anime e lo sappiamo benissimo fare un videogioco su appunto i nostri cartoni preferiti non è facile vi voglio ricordare cosa è successo con one punch e vi voglio ricordare cosa è successo con alcuni titoli della serie naruto facevano cagarissimo ma davvero cagarissimo non riesco proprio a capire perché capisco che si voglia fare un videogioco su un anime che tira molto in quel preciso periodo ma almeno impegnarsi ragazzi sarebbe cosa buona e giusta ed è veramente cosa buona e giusta anche fare una bella top 5 che ne dite siete nel canale giusto siete nella classifica giusta in cui andiamo a vedere alcuni titoli i ragazzi che arriveranno per varie console ma soprattutto basati su anime all'incirca in tutto l'arco del 2021 quali sono meritano di essere comprati dobbiamo incrociare tutte le dita anche quella dei piedi si senza ombre di dubbio si per cui preparatevi a incrociare tutte le dita anche quelle dei piedi perché non sappiamo il titolo che qualità finale abbia comunque sia iniziamo questa classifica e sono particolarmente contento di iniziare la classifica con inizuma 11 o che bello ragazzi allora o lì e benji era bello c'era il tiro della tigre questa palla che si ovalizzava e già lì iniziava a prendere dei contorni molto anime molto fani di questa palla che si ovalizzava bucava praticamente stadi e persone era davvero magnifico ecco con inizuma 11 andiamo in un livello superiore dove essenzialmente ragazzi non so se avete presente il titolo che è uscito per oli e benji ok dove ogni personaggio ha la sua caratteristica chi più o meno difensiva di take el di sorpra di sorpasso oppure di tiro in cui essenzialmente qua andiamo in uno scalino ancora più in alto e vediamo portieri ragazzi con animazioni pazzesche di dighe che si alzano personaggi grassocci che comunque riescono a fare dei tiri della tigre che infiammano il pallone insomma ragazzi il titolo è tutto così molto molto fani molto veloce si base essenzialmente appunto su quello che abbiamo visto nell'anime nell'anime avevamo i personaggi capaci di fare dei tiri incredibili e questi tiri in qualche modo prendevano la forma di un drago si ci sono anche qui poi la complessità del gioco ragazzi è tutta da vedere quello che vi posso dire che essenzialmente una data di uscita non ce l'abbiamo sappiamo che il titolo è prodotto da level 5 e sappiamo che uscirà nel 2021 incredibilmente per moltissime console in commercio sicuramente sony molto probabilmente nintendo e si vedrà anche per pc e microsoft e da comprare non è comprare se siete fan della serie e come fate a farvelo scappare insomma tanta roba no ok i digimon ragazzi appartengono anche alla mia generazione io dopo i pokemon vidi appunto i digimon e non erano così mali questi mustricciatoli che potevano evolvere agumon diceva scusate momento che torna indietro ma essenzialmente digimon survive un titolo in uscita nel 2021 per tutte le console microsoft sony e nintendo esattamente questo solo che ragazzi non si tratta di un action si tratta di uno strategico di sopravvivenza in arrivo appunto da bandai nanco all'incirca nel 2021 data precisa sfortunatamente non ce l'abbiamo titolo single player un titolo che in qualche modo mi ha ricordato moltissimo i vecchi final fantasy cioè prendiamo i nostri mustricciatoli creiamo la nostra squadra essi si devono evolvere come ragumon dice volve oppure patamon dice volve gattomon dice volve esatto avete capito prendete la vostra squadra e andate avanti così e li fate evolvere e poi trovate i mustricciatoli rivivete le varie avventure che sono state viste nel corso degli anni appunto di questo mondo digitale come dice volve basta 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 essenzialmente è questo e poi gli date dei comandi c'è una turnistica e vittoria vi sembrerà di tornare in un vecchio gioco di ruolo a turni e solo per questo ragazzi questo titolo mi intripa molto ora un anime ragazzi che sto seguendo con parecchia apprensione mi piace è fatto bene ha una bella storia e il nostro dai è davvero carino si sta evolvendo ok nella sua incredibile avventura e dragon quest the adventures of dai infiniti trash esattamente questo vi devo dire però qualcosina in più ragazzi appunto per questo videogioco che sarà essenzialmente un importantissimo gioco di ruolo con alcune tematiche action essenzialmente sarà diviso in ben tre episodi e questa trilogia ragazzi controlleremo alcuni dei personaggi più iconici della saga per cui se siete dei fan non potete assolutissimamente lasciarvelo scappare ce ne sono di tanti di tutti i gusti un gameplay importante un grinding importante e anche una grafica che strizza davvero tantissimo l'occhio appunto a questa bellissima avventura che in molti stanno amando in questo preciso momento ragazzi sta andando avanti e si sta evolvendo lo comprerete non lo comprerete essenzialmente ragazzi qui ci troviamo davanti a un titolo che rispetto agli altri due vi offrirà molte più ore di gameplay molta più profondità certo dragon quest ha dalla sua un bellissimo mondo bellissime ambientazioni tanti mostri e anche un personaggio che ha qualcosa in più da offrirvi nulla da dire quindi è un titolo molto molto consigliato e che mi lascia nel palato un buon retrogusto sicuramente di un titolo da provare ed ora devo parlare di demon slayer io quest'anime l'ho amato io l'ho seguito giuro su quello che volete mi comprerei tutte le action figure mi piace un botto è davvero bello è davvero bello è davvero bello vederlo lui con le catane è davvero bello vedere la storia è davvero bello vedere lui come si comporta è davvero bello vedere questa lotta tra guerrieri e demoni è davvero bello in tutto poi gli episodi finali ragazzi con quelle bellissime animazioni lasciamo stare l'anime è fatto davvero bene mi è entrato nel cuore demon slayer anime del 2020 a mio modo di vedere e sarà anche un videogioco da comprare nel 2021 ragazzi io so una cosa per certo uscirà nel 2021 so per certo che uscirà per le playstation 4 e playstation 5 ma so anche per certo ragazzi che ci troviamo davanti a un picchiaduro nei picchiaduro ragazzi possono essere fatti in due modi molto bene oppure molto male essenzialmente dipende molto da come il gameplay vuole andarsi a sviluppare se fosse un gameplay come quelli dei vari in naruto che abbiamo visto negli anni sarebbe anche un gameplay forse non dei più profondi e variegati come abbiamo visto in dragon ball fighter ma essenzialmente si tratterebbe di un buon sistema di gameplay l'importante è che non sia uno stile di gameplay molto simile a quello che abbiamo visto su one punch ho poche informazioni a riguardo ragazzi ma mi interessa davvero tanto e se vi interessa anche a voi vi invito a restare sintonizzati qua sul canale ma io vorrei utilizzarli tutti questi personaggi voglio vedere come li hanno tarati voglio vedere le loro abilità voglio vedere dal punto di vista grafico voglio vedere dal punto di vista del gameplay cosa sono stati in grado di regalarmi diventerà un competitivo come è successo su dragon ball assolutissimamente no sarà un bel gioco come quelli di naruto potrebbe essere ragazzi potrebbe essere anche se la casa di sviluppo non è la stessa potrebbe essere un titolo che segue le brutte orme di quello che è successo su my hero academia oppure one punch sì c'è anche questa possibilità ragazzi è più questa possibilità ma non voglio dirvi di non comprarlo voglio dirvi del abbiate fiducia e poi vedremo che cosa succede e per ultimo ragazzi la mia grande preghiera green blue fantasy re link allora quando sono capitato su quest'anime ho detto solo una cosa belli personaggi belle le ambientazioni sarebbe bellissimo avere un videogioco ed ecco qui nel 2021 probabilmente ragazzi fine 2021 ma si parla già di un posticipo state bene attenti ok stiamo parlando di un titolo che seguirà appunto le orme di gran blue fantasy si parla essenzialmente di un gioco di ruolo e a differenza di quello che è successo su gran blue fantasy versus ragazzi che era un picchiaduro e che non mi è piaciuto questo titolo verrà sviluppato direttamente da cry games e i cry games che cosa hanno fatto beh ragazzi si sono aiutati con gli sviluppatori di platinum games per creare un gioco di ruolo e un action davvero incredibile ebbene sì questo titolo viene sviluppato da due grandi case di sviluppo i cyber games ragazzi hanno dato vita ai grand blue fantasy oppure ad alcuni project awaking per dirne altre oppure shadowverse cioè non stiamo parlando di titoli piccoli e inoltre platinum games ha dato vita a bayonetta a vanquish astral chain e darà vita anche agli futuri bayonetta appunto il 3 che aspetto con grande trepidazione quindi che cosa voglio di più non voglio niente ragazzi se questi due riusciranno a lavorare bene questo gioco di ruolo avrà delle palle gigantesche forse ragazzi questo tra tutti quelli che vi ho elencato quest'oggi è quello più bello è quello più corposo è quello col gameplay più importante più profondo più impregnante più davvero fatto per i videogiocatori che possa esistere tutti gli altri videogiochi soprattutto demon slayer e digimon potrebbero cavalcare troppo l'onda appunto del e un anime facciamo un videogioco e riusciamo a tirare fuori qualche altro soldino no qui c'è gente importante qui c'è gente che vuole fare videogiochi bene platinum games alla mia completa fiducia vedo il gameplay so com'è il mondo ho seguito l'anime mi è piaciuto so che cosa mi offrirà grande squadra grande profondità amici cosa posso dirvi basta è da comprare punto e chiuso sfortunatamente come vi ho già detto il titolo probabilmente approderà a fine 2021 ma già si parla di un 2022 e uscirà solamente sulle console sony playstation 4 e playstation 5 per cui la grafica non sarà esattamente la cosa a cui punteranno di più ma chi se ne frega stiamo parlando di gran blue fantasy relink gioco di ruolo fatto dai cyber games e platinum games che volete di più ragazzi fare una classifica sugli anime sarebbe stata la cosa più semplice del mondo ma fare una bella classifica di videogiochi che sicuramente potrebbero interessarci è molto molto complicato spero di avervi regalato 5 bellissimi videogiochi spero che voi vogliate mettere like e seguirmi nei miei prossimi video e noi ci vediamo appunto nei prossimi video qui sul canale ciao